Quattro punti, per recuperarli ci vogliono due partite, ne restano tre alla fine del campionato, mi sembra che la situazione a vostro vantaggio non è che sia poi cambiata così tanto. No, noi c'è stato questo passo falso a Prato che ci può stare comunque dopo 25 partite, ma noi riprendiamo gli allenamenti con la nostra serenità, con la nostra calma, la nostra fame e voglia di vincere questo campionato, dobbiamo solo stare tranquilli. Per fortuna che la prossima Toscana, cioè il Ponte d'Era, l'ha incontrata in casa domenica prossima, non in Toscana perché le ultime due sconfitte sono arrivate a pochi chilometri di distanza, vado a dire Pistoia e Prato. Penso che ormai a questo punto della stagione ogni partita è importante, che sia toscano, che sia a parte gli scherzi, dipende solo da noi, dobbiamo scendere in campo come sempre, anche domenica secondo me abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo dove non c'è girata bene, però dobbiamo stare tranquilli. La voglia di voler chiudere subito il discorso si è fatta sentire domenica nella ripresa come hai detto tu? Sicuramente nel secondo tempo abbiamo cambiato registro e è venuto fuori il vero Teramo, il Teramo che ti massacra sotto tutti i punti di vista, a livello di intensità, di giocata. Mi dispiace un po' per il primo tempo ma dimentichiamo Prato, ora abbiamo Ponte d'Era e Ponte d'Era basta, né Savona, noi abbiamo solo Ponte d'Era adesso. Nel tennis si dice che la paura di vincere porta il braccino corto, non è che contro il Ponte d'Era correte questo rischio? No, la paura di vincere, ma la paura in per sé non fa parte del Teramo, anzi, c'è sempre grande rispetto per l'avversario perché è un ottimo avversario, ma io penso che con lo stadio Bonolis, con il nostro tifo, il nostro gruppo, il nostro misto, il nostro presidente, la dirigenza, non c'è nessuna pressione, anzi, sarà un'arma in più. Il Sant'Arcangelo durante la stagione vi ha già fatto qualche favore, magari vi fa anche l'ultimo? Ma sinceramente mi interessa o non mi interessa, è l'Ascoli che deve guardare il Teramo, il Teramo deve guardare solo se stesso, dipende solo da noi. Deve solo vincere. Esatto. E poi chiude i discorsi. E beh, se la matematica non è un'opinione.